Ciao a tutti, eccomi nella splendida Valle del Lupo alla Geromina, con la mia cagnolona Asia. Guarda bene l'obiettivo. Ho accettato la sfida e la nomination di Giovanni Senziani, a mia volta nomino Alessandro Frecchiani, la mia cara amica Cristina Ronchi, visto che non nominano mai le donne, e il mio carissimo amico Giorgio Gori, sindaco di Bergamo. Io la donazione l'ho già fatta, l'ho pubblicata, adesso faccio la mia doccia ghiacciata, però non la faccio da seduto, la faccio in piedi perché è un vero politico, non sta mai appiccicato alla poltrona.